di di ma che è giurassic park guardate cà guardate cà una bella spigola al sale io in questo video vi dico proprio i trucchetti giusti per farla venire perfetta non secca e non cruda proprio a puntino cioè mi avrei a cà guardate cà com'è bello guardate cà quante belle a parte perché guardate cà com'è bello succoso guardate cà guardate guardate cà guardate guardate mamma mia bella mamma mossa giusti pizzeri che c'è una foto ma che c'è una foto spigola al sale cottura perfetta vieni con me e guardate il resto del video che ha finito il mondo allora voglio questa è una ricetta talmente facile che più facile a guardarla che a raccontarlo non so se ha già spiegato bene la situazione perché veramente semplicissima basta soltanto stare attenti ad ascoltare per bene proprio le regole precise di cottura e queste cose per il resto è un gioco da ragazzi e anche uno dei metodi per conservare proprio il sapore del pesce al cento per cento allora in questo caso io che c'ho c'ho una spigola vedete allora naturalmente i tempi di cottura nel forno variano in base alla grandezza del pesce io questo pesce qui ce l'ho di 350 380 grammi massimo quindi la cottura sarà di 22 25 minuti ma massimo proprio allora una cosa molto importante che dovete non dovete dimenticare che non dovete squamare il pesce sennò poi dopo il sale va a finire sopra allora il pesce l'abbiamo pulito per bene dentro se non lo volete fare voi lo fate fare al vostro pesci ventolo di fiducia allora il che va che fa prendete il pesce ciò che mettono giusto uno poco poche sale perché non significa cuocerla al sale che poi dopo il sale va dentro no aglio aglio sfricolatelo dentro perché la cosa più bella è sentire proprio gli odori dentro vedete l'aglio ah mamma mi come è bella vedete ce lo mettete dentro poi ci mettete qualche fettina di limone perché non ci può mancare voglio in e frigorifero ci aveva un po di timo qui ti mette pure un rocce marini lo poco poco e prezzemolo e andiamo nella placca nella placca se voi vedete io ho fatto già un centimetro e mezzo di sale doppio senza albume senza acqua niente solo sale doppio allora immagino ci vado a mettere il primo pesciolino di così e mo faccio la stessa cosa con l'altro pesciolino e vi spiego tutto il resto altra cosa molto molto importante e chiudete proprio bene la pancia ok perché per dopo non vogliamo che sale poi entra proprio dentro che chiuso per bene andiamoci a mettere il resto del sale il resto del sale che adesso deve andare a copertura del pesce vedete praticamente adesso lo dobbiamo la mannascondro sotto sto pesce vi ripeto ci sono tante scuole di pensiero come ad esempio mettere l'albume dell'uovo nel sale mischiare il sale grosso con il sale fino con un po di acqua per fare una specie di sabbia no io per tanti anni l'ho sempre cotto così e vi devo dire la verità viene lo stesso bene allora voglio adesso il pesce l'abbiamo praticamente sommerso di sale adesso andiamo ad accendere il forno se potete accendetelo prima 200 gradi statico quando ha raggiunto la temperatura o se lo avete acceso prima lo mettete nel forno e vi faccio vedere che viene bellissimo allora 200 gradi andiamo in forno che questa è una cosa ancora più importante prima che lo metto nel forno sono un po mi scordi mi dimentico mi sto facendo vecchio veramente ricordatevi questo per fare un pesce al sale per ogni 100 grammi di pesce ci vogliono all'incirca 45 minuti di cottura mostro pesce ca è 350 380 più o meno non superi 400 quindi ma al massimo massimo faccio proprio proprio su run su run 20 minuti cacciato poi dal forno io lo lascio anche riposare un poco ancora 5-6 minuti e poi dopo facciamo il resto non scordate 200 gradi e ogni 100 grammi di pesce 4-5 minuti scordatevi e ora benvenuti a jurassic park sapete perché passati i minuti adesso di cottura perfetto tutto l'ho lasciato giusto 10 minuti così riposato mo ammascava e forse e forse lo vedi non so ok adesso voglio con molta molta pazienza abbiate veramente tanta pazienza e tanta cura andate a togliere tutto il sale in eccesso naturalmente vedete con calma mamma mia ricciaprita 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 guardate calmo spettacolare guardate cap piano 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 c'hai amma c'hai amma spuzzuli a chiano chiana vedete adesso dovete fare così con calma toglierci tutto il sale vedete dando anche dei colpetti vedete rimane bello duro la crosta di sale anche senza album e senza niente ma come arriva a toglielo tutto vi faccio vedere il resto ti guarda qua con tutta la calma possibile vedi che fa muovono poche sale se una roba mia moglie però qui dice amore che mi è nata la sala moglie che questa mia moglie ultimamente no se sta proprio alla mandana che la cosa proprio ti è pazza guarda qua ti è guarda qua com'è bello guarda guarda qua quanto ma quanto è bello guardate qua cottura perfetta vedete bella umida ancora dentro a me così mi piace non ha da essere che la cosa secca umida vedete vedete com'è bello guardate qua ho chiesto un bello filetto com'è bello guardate questo è molto bello tanto bello però voglio sentite io me lo assaggio tanto questo è un piatto dietetico quindi metto un pochino una coppia un pochino di salaro poi ci metto buon tanto che questo è lo assaggio io questo lo assaggio tanto questo poi ha spigolatoio veramente questo è che ha spigolatoio buonissimo è lo sfino che amo mangio no è fantastica spicolo al sale voglio seguire i miei consigli e fammi sapere se ti sono stati utili un abbraccio ciao